Allora siamo qua, buonasera amici del Palaghecco con Teotori, grandissimo gol e soprattutto vittoria del Castiglione. Che match hai visto caro Matteo? Contro il Bolsena. Che match hai visto? Contro il Bolsena. Bella partita è stata? Sì. Ti volevo fare i complimenti per il gran gol, un tiro sotto l'improce dei pali. E a chi lo dedichi? Al Cani. Al Babbo? Al Babbo. E a Danielino? Sì. E dopo c'è un altro match contro la Romeo Menti, che partita prevedi? Si vince? Non lo so. Si vince? Non lo so. Ok, Babbo Natale cosa ti ha portato? I giochi. Tanti? Sì. Qual è stato il più bello? Un gioco, questa è l'uno. Per la Befano invece allo zio che chiediamo? Non lo so. Un altro regalo grosso? Sì. Due parole su mister Tommaso? È bravo allenatore e ci vuole insegnare tante cose bene. Ok, ciao e buon anno.